Uno dei titoli più attesi per Wii U è sicuramente Super Smash Bros. Spettacolare in ogni senso il titolo firmato Nintendo, è davvero diverso dall'edizione per 3DS. Velocissimo e probabilmente a metà strada tra Melee e Brawl, Super Smash Bros. per Wii U è un titolo da attendere con aspettative esagerate a partire dal prossimo autunno. Super Smash Bros. è decisamente uno dei titoli più attesi per Nintendo Wii U. In uscita il prossimo autunno, il nuovo picchiaduro della casa di Kyoto ricalca i dettami dei precedenti Brawl e Melee e amplia di smisura il roster dei personaggi e il parco mosse, perfezionato da un bilanciamento generale che gratifica la pulizia dei match. Alcune tecniche troppo potenti sono state eliminate, altre riviste per un divertimento assicurato. Revisionati anche gli attacchi Smash, le sfere Smash saranno presenti con più parsimonia durante gli scontri e sarà più difficile mantenerle. Tecnicamente prodigioso, grazie alla cura certosina dedicata alle ambientazioni e ai combattenti, definiti con animazioni peculiari davvero spettacolari. Super Smash Bros. per Wii U è dunque un titolo da mettere in cima alla lista dei propri desideri del prossimo autunno. Bilanciamento perfezionato con alcune mosse troppo potenti completamente eliminate e poi nuova gestione degli attacchi Smash. Ma anche lo stile, il citazionismo storico che gronda in ogni arena per la gioia dei fan Nintendo. Uno spaccato dell'era 8 e 16 bit davvero irresistibile. Tecnicamente puoi avere una meraviglia e metti in risalto tutta la potenza di Wii U. Super Smash Bros. per Wii U uscirà il prossimo autunno, un'altra grande esclusiva Nintendo. Super Smash Bros. per Wii U.